Amici di Volley Umbria, buonasera e ben ritrovati con il nostro nuovo appuntamento di Volley Umbria TV, la finestra di Volley Umbria.it sul mondo della pallavolo regionale. Oggi torniamo ad occuparci di giovani e lo facciamo con un'allenatrice molto conosciuta nel territorio perugino, è Chiara Villan. Ciao Chiara, buonasera. Ciao Andrea, buonasera a te, buonasera a tutti voi. Ben trovata. Chiara ha un trascorso, un curriculum davvero molto importante con i giovani, io la ricordo a San Mariano, adesso chiaramente è un coach, fa parte dello staff tecnico del giovani della School Volley Perugia e con lei questa sera affrontiamo delle tematiche che ritengo molto importanti, soprattutto nella conoscenza del movimento giovanile, un movimento di cui spesso ci riempiamo la bocca per progetti riguardo al futuro, ma che poi nella sostanza non tutte le società gestiscono come dovrebbero, anche per creare poi quelle risorse per le formazioni della prima squadra, dove spesso in alcuni casi della nostra regione si va a cercare fuori, anche investendo diverse risorse. Chiara, personalmente, come dicevo, ha avuto modo di riconoscere, di apprezzare il suo lavoro nell'epoca della San Mariano, quando mi dilettavo in qualche servizio, in qualche articolo, e già lì insomma eri uno degli allenatori di riferimento, delle under soprattutto, no? Sì, sì, io praticamente quasi sempre settore giovanile, ma anche per scelta personale, nel senso che ritengo che la base sia questa, di quasi tutte le società. Mi dispiace vedere quando magari c'è un interesse solo legato a quelle che sono le prime squadre, perché purtroppo spesso e volentieri poi si arriva a guardare quelli più che sono gli interessi magari economici che quelli che sono veramente le potenzialità, che invece il settore giovanile potrebbe dare. Esprime. Esatto. Quella che viviamo alla School Volley è una realtà importante, nel senso che è un progetto che ci piace, sono anni ormai che collaboriamo e che lavoriamo, puntando principalmente sul settore giovanile. Anche senza palestra? Anche senza palestra. Diciamo che questo anno, nonostante veniamo dai due anni di Covid, dove comunque siamo stati messi a dura prova, quest'anno ancora un'ulteriore prova più difficile. La cosa bella di questo è che comunque non ci arrendiamo, sia la società, nelle persone dei dirigenti, del presidente Mandò, hanno fatto di tutto comunque per farci portare avanti quella che è l'attività, soprattutto ringraziamo i genitori per la pazienza che hanno dimostrato, perché effettivamente con la mancanza della palestra di San Marco, che è la nostra palestra di riferimento... Ricordiamolo, per chi non lo sapesse, la palestra di San Marco è stata adibita, insomma, centro vaccinale del territorio perugino. Esatto. E siamo venuti a mancare anche di un'ulteriore palestra, che era di una struttura scolastica. E quindi ci siamo trovati in difficoltà, perché comunque contiamo la bellezza di 13 squadre, sia nel settore maschile che nel settore femminile. Una B2 di riferimento fatta principalmente con ragazze giovani, quest'anno un'esperienza... Guidata da Roberto Farinelli, che lo dobbiamo salutare. Esatto, guidata da Roberto Farinelli. Se no si offendono, lo salutiamo. Assolutamente. Un progetto totalmente nuovo, con molte ragazze che vengono da fuori, alcune migliori atlete del nostro territorio, e qualche ragazza, insomma, che è rimasta un pochino a fare da colonna portante per questo gruppo giovane. Quindi, ecco, ripeto, è un progetto importante, come la School Volley ogni anno fa, tenta di portare quelle che sono le sue ragazze a potersi esporre in quelli che sono i campionati provinciali e regionali di riferimento. Quindi voi siete un po' nel territorio perugino, avendo, no, prima al di là della questione di San Marco, su cui non entriamo, non è questo, diciamo, l'ambito per parlare di questi aspetti. Però, diciamo, avete dei riferimenti anche in termini di palestra che vi permettono di essere un po' nella città, di trovarvi in più posti, in più quartieri. Sì, siamo dislocati abbastanza, perché partendo da quello che magari era San Marco, abbiamo trovato sicuramente il nostro primo punto di riferimento più importante, adesso diventa la palestra dell'Enrico Fermi a San Sisto, nonché poi abbiamo altre strutture, come la Kennedy, ci alleniamo alla palestra di ferro di cavallo, soprattutto magari con i gruppi più piccoli, il mini volley lo facciamo al Palabarton, e questo dà anche ai bambini la possibilità di incontrare quelle che sono le massime realtà dei campionati di Serie A, che comunque Perugia vive una realtà abbastanza importante, sia in ambito maschile che femminile. E poi siamo, ripeto, anche andiamo alla palestra della Don Bosco, siamo dislocati in innumerevoli posti, un pochino anche perché siamo un po' eremiti quest'anno. Certo. Però, ecco, diciamo che riusciamo a prendere gran parte del territorio di Perugia, ecco, quindi questo ci dà la possibilità di avere un bel richiamo. Senti, tu potresti, in un certo senso, se hai un riferimento, perché tocchi con, diciamo, con la realtà, nel senso con mano, quella che è la situazione dei bambini. Com'è cambiato questo sport, l'approccio a questo sport, prima e dopo il coronavirus? Anche se dire dopo... Ancora non è tanto dopo. Prima e durante, pochino? Allora, sicuramente, prima, diciamo, c'era anche un afflusso superiore, anche dal punto di vista numerico. Questi due anni ci hanno un po' penalizzato, soprattutto perché poi, i gruppi quelli più piccoli, io parlo della fascia che va dai 6 ai 10 anni, che fanno il minivolle, fondamentalmente, che sono i ragazzini più piccoli, non potevano allenarsi, proprio per direttive date dall'età che avevano. E quindi questo, dal punto di vista di questo sport, ci ha tagliato tanto. Nel momento in cui c'è stata la ripresa, inizialmente c'è stata anche un po' di difficoltà, di titubanza, anche da parte dei genitori stessi, perché comunque bambini che stanno con i nonni o vivono in realtà legate alla scuola, c'era un po' la paura, insomma, legata al fatto che comunque ci potessero essere dei contagi. Però abbiamo visto che quest'anno, riprendendo, c'è anche una forte necessità, da parte sia delle famiglie, ma anche dei ragazzi, di riprendere un pochino la normalità. E quindi, organizzati, per come deve essere organizzato, in base anche al protocollo della FIPA, che ci ha permesso comunque, di potersi riallenare, di riprendere le attività, diciamo che stiamo ripartendo. Sicuramente i nostri più affezionati sono quelli che sono nei gruppi un pochino più grandi, che partivano già da under 13, under 14, che non ci hanno, devo dire la verità, non ci hanno lasciato, anzi, sono rimasti lì, e grazie a loro, noi comunque, se abbiamo potuto, in qualche maniera, nonostante i vari stop che ci sono stati, ripartire. Cioè, considerando che l'anno scorso, noi abbiamo avuto una concentrazione di partite, solamente tra marta, aprile e giugno, quando magari l'attività, come adesso, riprende già direttamente da ottobre e novembre. Senti, a che, diciamo, tu fai un under 14, quindi sostanzialmente, delle ragazzine, insomma, che entrano in una fase adolescenziale, diciamo che, che al di là dell'aspetto, immagino, gestionale del gruppo, ma che fase è della pallavolo? Possiamo dire che quella forse è una delle fasi più importanti, perché si esce dalla fase del gioco, diciamo così ludico, con la palla, dove si iniziano a capire alcune fasi della pallavolo, dove lì effettivamente devi iniziare a capire di cosa si tratta. Di cosa si parla. Allora, sicuramente, loro, la fascia d'età, 12-13 anni, sono 13-14. Allora, a mio avviso, è la fascia d'età più bella, da quando escono dai 12 fino ai 14 anni, perché da un punto di vista motivazionale, è il momento in cui loro ti danno tantissimo, soprattutto se poi, hanno chi riesce a trainare, a trasmettere quella che è una passione, quello che è l'importanza del gruppo, di lavorare insieme. dal punto di vista tecnico, diciamo che qui quest'anno, c'è veramente il passaggio tra la pallavolo giovanile, e la pallavolo, diciamo così, dell'alto livello, perché iniziano a inserire ruoli, iniziano a giocare esattamente come una serie A. Quindi, è un momento importante, bello, e, diciamo, che inizi a costruire quello che poi è proprio il futuro, diciamo. Il ruolo dell'allenatore? Il ruolo dell'allenatore è importantissimo, non solo da un punto di vista tecnico, ma secondo me l'aspetto più importante è quello motivazionale, motivazionale per farle appassionare, farle attaccare a una società, farle appassionare non solo a uno sport, ma anche al condividere un lavoro insieme. Questa è la cosa più importante, perché se c'è questo, poi il resto, tre volte, quattro volte a settimana in palestra, lavorando sempre, si arrivano ad avere risultati. Senti, qui sono passati diversi, diciamo, figure da dirigenti, allenatori, collegamenti, cioè, è stato un po' fatto il quadro sulla pallavolo Umbres, Umbres è sempre detto un po' che, il problema sono questi settori giovanili, dove, non è il caso sicuramente la school world, le altre società di cui parliamo spesso, però magari si tende un po' a fare numero, anche per il discorso di raccogliere le quote, ma poi la qualità del lavoro, non è quella che poi paga, anche perché quando poi alcune società, tu penso sia con la school world, che magari all'epoca con la San Mariano, ti vai a confrontare in quella realtà che escono dalla provincia o dalla regione, lì poi ci sono situazioni diverse, superiori, che ridimensionano un po' l'Umbria. Tu da questo punto di vista vedi dei miglioramenti, vedi delle prospettive, cioè, si è detto a volte, come magari è stato il caso per anni della San Mariano, ma anche la stessa school world, cioè, sono nate le collaborazioni, credi in questa fase, o credi più invece nella possibilità, di investire magari in tecnici, ancora più professionalizzati nel loro impegno, e quindi magari dare a loro un po' la possibilità di far crescere questi ragazzi, anche con l'ausilio dei genitori, che li possano portare più spesso in palestra. Allora, io penso che il discorso di collaborazione possa essere una buona cosa, se poi c'è da parte delle società la volontà di non legarsi solo al proprio interesse personale, cioè nel senso una collaborazione non deve essere fino a se stessa legata solamente a una stagione, ci deve essere una collaborazione con un progetto dietro, che possa proseguire nel giro di due o tre anni, altrimenti noi abbiamo visto che qui spesso ci sono collaborazioni un po' sterili, legate magari solamente al risultato... All'esigenza del momento. Allora, a quel punto riesce quella che è un po' la nostra situazione in Umbria, nel senso che ognuno ha un pochino il suo orticello. Sarebbe bello poter fare quello che c'è fuori da qui, dove veramente ci sono delle società in altre regioni che sono di riferimento e hanno società satellite che lavorano per loro, ma c'è un interscambio a livello di giocatori anche su queste, di allenatori. Cosa che qui alle volte si tende... Quindi Bartocini School Volley, in questo, al di là che tu sei lì e non potrai sicuramente dire male, però in questo nasce, no? Questa è una realtà importante, sicuramente è un progetto importante, dove ci ha fatto anche piacere che in questi anni ci hanno un po' ricercato da questo punto di vista. Il fatto di avere una squadra di riferimento così importante a livello nazionale, credo che sia importante anche che abbia un contesto dietro di settore giovanile importante. Il discorso Serie B nasce proprio legato a questo progetto ed è un collante poi con quello che è il nostro settore giovanile, nel senso che poi dà alle ragazze la prospettiva di quello che può essere un percorso che poi non è detto che a tutte possa interessare voler andare a fare parte di una Serie B o quantomeno di una Serie A che poi magari lì subentrano altre tipologie di caratteristiche legate anche non solo a un aspetto tecnico ma principalmente anche a un aspetto fisico. Però insomma è importante poter avere la possibilità di affacciarsi a dei panorami importanti e di poter crescere ragazzine che vedono quella realtà non solo in televisione ma che la vivano qui nel proprio territorio. Certo, senti, come mai si sceglie adesso sono tanti anni che lo fai di fare l'allenatore di pallavolo a livello giovanile e quali sono sostanzialmente le difficoltà più importanti che mediamente si incontrano? Adesso non voglio entrare nel merito di quelle che puoi vivere tu oggi nella tua quotidianità ma hai un bagaglio di esperienza talmente elevato che ti sarei fatta un'idea. Allora, sicuramente il settore giovanile dal punto di vista dell'avere le emozioni o di darti qualcosa ti dà molto di più. Non credo che sia remunerativo così tanto come magari fare allenare magari una squadra a livello nazionale però i ragazzi ti danno una grande energia. Io, per me principalmente viene questo. Le difficoltà più grandi che possiamo incontrare sono legate a livello gestionale nel senso che è importante comunque avere una società che ti dia gli strumenti necessari per far crescere un settore giovanile a partire dalle palestre a partire dalla strumentazione che è necessaria a partire da una pianificazione che riguarda i campionati che riguarda il percorso che va fatto che ripeto non può essere stellere a una stagione sola ma deve essere un percorso legato a una biennalità o anche a una triennalità collaborare investire sugli allenatori che è importante prima scherzando abbiamo parlato del discorso del collaboratore quella secondo me oggi come oggi è una figura che è importante invece per un allenatore possiamo dire che mi sono candidato io qualora come giornalista è una figura importante all'interno della palestra perché in due si lavora molto meglio si fanno crescere i ragazzi soprattutto mano a mano che crescono e quindi c'è la necessità che si lavori più sullo specifico quindi sicuramente è importante avere una società di questo e poi non ti nascondo che in altra grande mano la dovrebbero dare i genitori ecco e qui tocchiamo che da una parte sono una risorsa per l'impegno che mettono che profondano nell'accompagnare nell'essere presenti le nostre società si fondono sull'aiuto dei genitori io questo non posso che dirlo avendo vissuto realtà del territorio non sono legato a Skullvolle San Mariano San Sisto quant'altro allenatore giocatore ti posso dire che la presenza di un genitore è importante alle volte diventa ingombrante quindi bisogna anche saper gestire questo perché già tu alle tue categorie ricevi pressioni no io non personalmente ma magari un genitore ha delle aspettative nei confronti dei figli oppure magari un genitore ha fatto un altro sport ha giocato e quindi vorrebbe che il figlio abbia lo stesso interesse la stessa passione e è un po' difficile cercare di far capire a un genitore che i figli sono un'altra cosa e un'altra realtà io parlo anche da mamma nel senso io sarei contentissima se i miei figli si appassionassero tanto e vivessero l'esperienza che ho vissuto io da giocatrice ma detto questo loro non sono uguali a me quindi non potrò mai cercare ricercare la stessa identica cosa quindi alle volte per un ragazzo che viene in palestra è un po' difficile questa situazione anche perché magari le volte sono anche carichi di aspettative no? cosa che alcuni non vivono però ecco la presenza dei genitori come supporto e come aiuto è molto importante questo senzato assolutamente anche perché l'abbiamo capito anche nelle altre trasmissioni quanto magari si parlava con De Dominici Saturni di quanto anche un genitore può aiutare nella sua età nel fare il segnapunti piuttosto che nel dirigente accompagnatore quindi queste sono figure di assoluto rilievo Chiara è stato un piacere parlare con te spero ci saranno altre occasioni noi diciamo per chi ci sta guardando in tv questa sera abbiamo rubato un po' di spazio al nostro consueto approfondimento per dare spazio a sua volta all'importantissima iniziativa di solidarietà che c'è stata lo scorso fine settimana a Foligno con l'iniziativa della Volleyball del DS Diego Musco che ha fatto veramente qualcosa di straordinario con la sua società con tante altre società del territorio che hanno collaborato per questa bellissima raccolta fondi spero che ci sarà occasione nelle prossime settimane di poterci ritrovare per continuare a parlare di settore giovanile magari verrai un giorno anche con Roberto Farinelli che tanto lui ogni tanto qui ci viene volentieri noi lo accogliamo con grande piacere perché oltre che adesso un allenatore molto preparato è anche un grande competente della palla a volo in senso generale quindi lui non guarda solo il suo articello ma si interessa anche di altro tra l'altro so che in questi giorni a Milano esatto è impegnato perché avete una giocatrice giusto? Sì, è una ragazza che è appunto della serie B che è stata convocata a raduno della nazionale bene quindi insomma anche qui diciamo che è un altro punto importante complimenti quindi a Roberto Farinelli la sua squadra a questa ragazza di cui possiamo fare il nome perché non penso che ci saranno problemi Sì, Gibin lei è il secondo palleggiatore bene quindi complimenti è una ragazza giovanissima in 2006 quindi insomma che ha conosciuto l'azzurro della nazionale esatto quindi speriamo che questa sia un'avventura che possa proseguire un saluto chiaramente al Presidente Mandò a tutta la vostra squadra di collaboratori dirigenti al seguito un buon lavoro e la speranza che possiate rientrare presto nella vostra palestra di San Marco anche perché vorrei dire che quella palestra sarà diciamo finita la necessità di essere utilizzata per altri aspetti nel frattempo insomma continuate a lavorare nel territorio appunto nelle palestre che abbiamo menzionato e danno comunque riferimento a un servizio importante alla città di Perugia grazie Chiara buon lavoro per un nuovo appuntamento di Volley Umbria TV non resta che attendere la prossima settimana vi invito nuovamente chi ci sta guardando in televisione a restare collegati per guardare questo bellissimo servizio di resoconto della iniziativa della Volley Bolfolino per chi non l'avesse visto ci sta guardando sui social basta scorrere o il canale YouTube o la pagina Facebook lo troverete ve lo potrete gustare dopo aver visto chiaramente questa puntata grazie a presto ciao grazie grazie a tutti grazie a tutti